Oluci, lei oggi punta il dito in questa conferenza stampa contro la Regione per l'approvvigionamento che voi ritenete non sufficiente di vaccini anti-influenzali. È così? Purtroppo è così. Dai due accessi agli atti è sottolineato la grave carenza sull'approvvigionamento dei vaccini, ma soprattutto la grave assenza del Dipartimento della Sanità, di Damario, della Verì, di Marsiglio, di una giunta lenta e che scambia sempre le priorità. Veloce a fare propaganda è molto molto lenta, al contrario, quando si tratta di prevenzione, se una prevenzione è così importante come la campagna per l'influenza. A questo punto cosa chiedete? Noi abbiamo voluto denunciare questa gravissima assenza da parte della programmazione regionale perché mancano all'appello 216.000 dosi ed è molto importante in questa nollità, con la riapertura dell'anno scolastico, e evitare la sovrapposizione delle due patologie, ovviamente quella dell'influenza e quella del Covid. Ecco perché è ancora più grave che la regione Abruzzo sia tra le ultime in Italia rispetto all'approvvigionamento dei vaccini, in quanto l'accesso dimostra, l'accesso agli atti dimostra, che la regione si è mossa soltanto il 22 di luglio del 2020, quando altre regioni in Italia si sono morse a marzo o ad aprile. È chiaro che quando poi siamo arrivati noi a chiedere, ad approvvigionarci, siamo arrivati con molto molto ritardo. Secondo voi c'è il rischio che alcuni abruzzesi possano avere difficoltà poi a vaccinarsi realmente? C'è il rischio che rispetto all'obiettivo che si è posto in tutta Italia il Ministero della Salute, la regione Abruzzo sia fanalino di coda, perché poi a fine di agosto, e questo lo dimostra il secondo accesso agli atti, la regione Abruzzo fa le asle in particolar modo un'ulteriore richiesta di incremento e la domanda è perché non l'avete fatto prima come tutte le altre regioni? Sono ulteriori 92.300 dosi su queste, io penso che il ritardo potrà essere anche non recuperabile. Ecco perché oggi, a 20 giorni dall'inizio della campagna sull'influenza, noi chiediamo chiarezza, sì, ma soprattutto denunciamo per sollecitare la Giunta Lent ad essere veloci sulle cose serie e importanti per la nostra regione.